Gentili telespettatori, buona giornata. Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico, parla di un po' di tutto in una intervista. Dice ho la passione per le figurine panini, conosco a memoria tutti i calciatori e non rinnego di essere stato orgogliosamente un comunista emiliano. Non ho nulla di cui vergognarmi. È un po' lo stesso discorso che fa la russa. Mio padre è fornudatore del movimento sociale italiano, un partito assolutamente all'interno della democrazia, perché dovrei vergognarmi? Infatti, come non deve vergognarsi la russa per la sua militanza di tanti anni nel movimento sociale italiano, non deve vergognarsi neanche Bonaccini per aver militato nel Partito Comunista Emiliano. Sono due estremi, uno che si riferisce al neofascismo e l'altro al neocomunismo di una volta, chiamiamolo così, perché oggi c'è ancora il comunismo. Dice ho 200 album completi panini. Ogni primo di gennaio che è il compleanno gli amici mi regalano un album nuovo. Dice, beh, alla presentazione del libro di Luigi Garlando sulle figurine panini mi hanno fatto un test. Dovevo riconoscere i calciatori con il nome coperto? Tutti dal 1970 in avanti? Non ne ho sbagliato uno. Beh, dice, ho cominciato a fare politica da vent'anni e non dico di non essere mai stato comunista. Sono stato un comunista Emiliano e nulla di vergognarmi, anzi ne sono orgoglioso. Il giornalista dice, ma lo sa che comunque il comunismo non è stato anche un problema nel mondo. E lui dice, beh, ovviamente la nostra storia parte ne era consapevole da decenni. Quando Chetto disse che dovevamo cambiare nome e simbolo pensai, finalmente, dice Bonancini, e convinse i miei genitori, anche loro consapevoli della necessità di cambiare, ma con qualche magone in più. E poi si parla della politica oggi. Gli chiedono, ma c'è un pericolo di ritorno alla dittatura in Italia. Dice, ma va, dice, Giorgia Meloni non è così. Semmai il pericolo è un sovranismo amico dei paesi che hanno torsioni autoritarie come l'Ungheria e poi quello che è successo anche in altri stati, ad esempio con Bolsonaro. La Meloni è una che ha fatto la gavetta. Per lei è stata particolarmente dura, perché è una donna e la politica italiana è molto maschilista. Se vincerò le primarie le chiederò un incontro per dirle che cosa, non certo per discutere del bilancio, per dire che la considererò sempre un'avversaria, mai una nemica. Questo è importante. Ci troveremo contro molte volte, ma se c'è da accogliere i migranti noi ci siamo. A Natale qui in Emilia Romagna ne sono arrivati 130. Non dimenticherò mai i loro occhi. Nessuno deve subire questo, dice Bonaccini. Vediamo che aggiunge, se ci sarà da votare un provvedimento del governo che condividiamo nell'interesse nazionale, lo faremo. Non faremo una opposizione a prescindere, come vi dicevo, che fino ad oggi la sinistra ha fatto l'opposizione proprio letteralmente. Ci opponiamo a qualsiasi cosa dicano a destra che sia sbagliata, giusta, noi ci opporremo sempre. Non è molto intelligente. Infatti Bonaccini dice, beh, se ci sarà qualcosa che condividiamo lo votiamo dell'interesse nazionale, se no diremmo di no. Dice, in questa legislatura staremmo dove ci hanno collocati gli elettori, all'opposizione. Al governo andremo solo se vinceremo le prossime elezioni. Quindi niente governi, tecnici. E per quanto riguarda l'avversaria a queste primarie, la Schlein dice, l'amicizia e l'affetto non verranno mai meno. Se toccherà a me la coinvolgerò nella strategia, se toccherà a lei mi metterò a sua disposizione. E poi chi appoggia la sua avversaria ne ha ampiamente diritto. Dice, poi aggiunge, le correnti del PD sono troppo cristallizzate. Così non servono a discutere, ma a dividersi. E poi il giornalista chiede, ma quanta gente andrà a votare a queste primarie del 26 febbraio? E lui dice, tanta, ci scommetto, siamo l'unico partito a farle. La sinistra in Italia esiste ancora, ha voglia di riscatto e lo dimostrerà. Ma il PD oggi è intorno al 14% e in molti prevedono, molti sondaggisti, una continua discesa, addirittura che porti questo partito in poche settimane, qualche mese, a meno del 10%. E lui, Bonaccini, dice, e rischia l'irrilevanza. Io sono, per tornare alla vocazione maggioritaria, se non significa non fare alleanze che sono necessarie, che non significa. Significa non delegare nulla a nessuno. Non delughe i voti di sinistra ai 5 stelle, né i voti moderati al terzo polo. Vogliamo andare a prenderceli noi e anche a prenderli a destra. Beh, su Conte, dice, se Conte è così di sinistra non si presenterà più alle elezioni da solo, perché così diventa il migliore alleato della destra. E sul reddito di cittadinanza, dice, non va abolito, va cambiato, che è infatti quello che sta facendo il centrodestra. Emiliano in Puglia e io in Emilia Romagna fumo i primi a creare il reddito di solidarietà, ma chi lo riceve deve essere accompagnato al lavoro. Oggi in Italia c'è una grande questione, il potere d'acquisto. Basta parlare di cuneo fiscale. Ha assolutamente e totalmente ragione. Ci vuole il salario minimo, il cuneo fiscale è qualcosina, è un'altra cosa. Parliamo dello stesso argomento, ma è un'altra cosa il cuneo fiscale. Perché la gente al bar pensa che sia una tassa per una città piemontese, cuneo fiscale, no? Cuneo è una città piemontese, quindi ha fatto la battuta. E noi dobbiamo studiare Gramsci, Gobetti, Dossetti, Bobbio, i nostri padri nobili, nello stesso tempo dobbiamo saper parlare come la gente al bar. Parliamo del taglio delle imposte sul lavoro, l'imprenditore stabilizza un precario, lo Stato lo fa risparmiare. e sull'autonomia dice vabbè ma non quella di Calderoli, ovviamente. Non si devono spostare soldi da una regione all'altra ma consentire a ognuna di programmare gli investimenti e tagliare la burocrazia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.